Buonasera a tutti e benvenuti. Questo video vuole un po' tornare alle origini del canale, cioè i primissimi video che avevo fatto che riguardavano la finanza personale. Non so chi di voi mi segue dall'inizio, comunque le ha visti. Finanza personale che è intesa come la gestione di quelle che sono le entrate, le uscite, le attività e le passività di una persona, un po' come se fosse un'impresa. E come avremmo visto anche dai libri di Robert Kiyosaki, essenzialmente i principi di gestione del denaro di una persona, di una società, sono più o meno gli stessi. Lui consigliava infatti di tenere un budget personale, una sorta di bilancio che può sembrare così una cosa inutile, che richiede tempo, energie, impegno, però effettivamente è fondamentale. Io come dicevo ho tenuto proprio il budget di tutte le mie spese e effettivamente è grazie a quello che ho scoperto tutta una serie di spesi inutili, proprio di spreco di denaro, non parlo di tirchieria o di non godersi la vita ovviamente. Parlo proprio di soldi buttati via per cose che magari non ci interessano, proprio sprechi. Partendo da questi video di finanza personale avevamo parlato in un video apposito, che vi invito a vedere se vi interessa il tema, per esempio di come risparmiare, avevo elencato 10 metodi per risparmiare e in generale tutta una serie di video sulla gestione del denaro, su cosa è attività, cosa è passività e come, secondo l'insegnamento di Robert Kiyosaki, ma ovviamente io parto da lui ma ci sono tanti autori altrettanto validi sul tema della finanza personale. Ma comunque diciamo tutti concentrano le energie sul discorso della gestione della ricchezza e soprattutto di cercare di creare delle fonti di reddito, dei flussi di ricchezza tali per cui a un certo punto noi riusciamo a diventare autonomi, non dipendenti dal nostro lavoro che sia appunto reddito di impresa, reddito professionale oppure lavoro dipendente. E diciamo quindi avevamo visto tutta questa questione della gestione del denaro. Vi invito a vedere proprio, ho creato una playlist di finanza personale, quindi se vi interessano questi video vi invito a guardare direttamente la playlist senza stare così a cercarli. Dopodiché avevamo visto anche tutta una serie di altri video legati invece proprio all'investimento e ai risparmi, quindi la gestione in generale del nostro denaro e come poterlo investire per farlo per fruttare, per renderci, appunto per crearci delle rendite passive e tutta una serie insomma di tecniche che ecco mi piace poi anche discutere con voi, come dico sempre non ho la presunzione di imparare diciamo leggo e studio delle cose, ve ne parlo, cerco diciamo di riferire e parlare così delle mie esperienze sperando ovviamente di insegnarvi qualcosa ma sempre nell'ottica di un confronto con voi anche perché vedo che molti di voi che commentate conoscete bene la materia e spesso grazie ai vostri commenti io stesso imparo tante cose quindi veramente insomma vi ringrazio e mi piacerebbe come dico sempre che si crei una comunità insomma tra noi di persone con interessi simili lo stesso modo di pensare e l'opportunità appunto di scambiare informazioni a vicenda ecco detto questo nel video di oggi vorrei invece andare a monte di tutto questo a monte dell'investimento dei soldi che abbiamo a monte della gestione dei nostri soldi appunto entrate uscite patrimonio appunto alla fonte principale cioè di dire benissimo investire i soldi benissimo gestirli ma come primo passo bisognerebbe fare questi soldi guadagnarli e diciamo che ovviamente essenzialmente il nostro patrimonio può derivare da tutta una serie di fonti che sono il lavoro dipendente come avevamo visto nei quattro quadranti di Robert Kiyosaki quello schema 4 di cui vi avevo parlato in un video lui parla di su un quadrante di lavoro dipendente sull'altro di lavoro diciamo lavoro autonomo piccole imprese attività professionali un altro reddito derivante da grandi imprese in particolare delle organizzazioni che vanno avanti da sole di cui noi magari siamo soci e abbiamo contribuito a crearle a farle crescere magari possiamo anche partecipare in piccola parte della gestione ma comunque sono strutture grandi che ci danno si spera dei redditi ogni anno sotto forma di dividendi comunque una parte degli utili e infine appunto i redditi da investimento quindi investire nel mercato immobiliare mercati finanziari e tutta una serie di altre eventuali attività che abbiamo visto appunto nei singoli video anche beni come criptovalute bene rifugio eccetera comunque secondo Robert Kiyosaki l'importante che qualunque cosa sia ci dia un flusso di reddito ecco non parla di speculazione compra 10 rivendo 20 lui parla proprio di flusso di reddito idealmente di investire in dei beni che diano adeguati flussi di reddito e non venderli mai quindi queste diciamo sono le varie fonti di reddito andando però sul concreto lo stesso Robert Kiyosaki racconta la sua storia personale e spiega come appunto non è che uno deve scegliere uno di questi quattro quadranti dire io voglio essere un investitore stop ovviamente per essere un investitore e per avere una grossa società richiede dei capitali molto impegno ogni fonte di reddito richiede un lavoro iniziale un impegno che sia di capitale che sia di energie che sia di il nostro tempo e ovviamente delle nostre capacità bisogna scegliere in base alle nostre caratteristiche a ciò che vogliamo a come siamo diciamo ai nostri punti di forza i nostri punti di debolezza le argomenti che conosciamo dove siamo più bravi com'è il nostro modo di lavorare se abbiamo dei soldi da investire oppure no l'avversità rischio cosa ci possiamo permettere di perdere tutta una serie di altre cose non entro perché sarebbe un mondo comunque quello è l'obiettivo quindi bisogna capire su quale quadrante vorremmo andare ma in concreto spesso ognuno di noi può occupare anche più di questi quattro quadranti ad esempio faccio l'esempio della vita di robert kiyosaki lui raccontava che nel 1974 quando era stato congedato dall'esercito americano era andato diciamo fare la guerra del vietnam diceva io sì avevo gli insegnamenti del padre ricco ma non avevo un soldo essenzialmente a parte ecco forse le paghe che aveva ricevuto e quindi diceva io non avevo particolare voglia di studiare non avevo particolare intelligenza brillantezza non era un genio e quindi già l'attività libero professionale era fuori portata per me come pure anche il lavoro dipendente perché comunque lui diceva io ero pigro insomma ecco si definiva un pigro forse un po con falsa modestia ma comunque lui era orientato sul creare un business oppure fare l'investitore o anche più di una e infatti lui diceva però siccome non avevo capitali non è che potevo investire soldi che non avevo lui all'inizio andò a lavorare per la xerox in particolare faceva il venditore quindi veniva pagato soprattutto a provisioni ma comunque lavorava per una società non faceva l'investitore all'inizio e quello gli era servito da un lato per avere i soldi il capitale per poi poter iniziare a investire e pian piano crearsi delle fonti di reddito dall'altro lui diceva perché gli insegnava a vendere quindi lui voleva fare quell'esperienza lavorativa anche perché per lui era importante vendere e non perché poi nella vita è diventato un venditore effettivamente ma perché lui voleva diciamo comunque imparare a trattare con le persone a fare transazioni trattative eccetera e quello lui diceva era importante e si imparava soltanto facendo vendite concretamente seguendo sempre gli insegnamenti del suo cosiddetto padre ricco cioè il padre di quel suo amico che gli aveva insegnato tantissimo sull'attività economica sull'imprenditoria e sull'investimento quindi partendo da questa storia di robert kiyosaki poi lui alla fine si licenziò e quando aveva adeguate fonti di reddito era diventato via via bravo investito su varie case anche con un utilizzo intelligente del debito poter lasciare il suo lavoro quindi ecco nella vita non solo possiamo passare da un quadrante all'altro ma spesso ne occupiamo più di uno e come dicevo partendo da questo esempio vorrei venire al tema del video di oggi che è quello della creazione di fonti di reddito ulteriori alternative rispetto a quelle diciamo che già abbiamo in particolare andare a integrare un'eventuale pensione stipendio da lavoro dipendente o magari di attività libero professionale insomma comunque redditi da quel tipo di attività anche perché queste sono essenzialmente le fonti all'inizio del nostro patrimonio a meno che noi abbiamo ereditato dei soldi li riceviamo in donazione o altro quindi prima di poter parlare di investire bisogna creare effettivamente un patrimonio altrimenti da investire c'è poco soprattutto le fonti di reddito derivanti da investimento oggi con i tassi a zero e rendimenti irrisori purtroppo anche in un clima di inflazione sempre più crescente anche in europa seppure qui secondo le stime ufficiali è abbastanza bassa ma comunque non irrisoria e sicuramente più dello 0 per cento di tasso di interesse che riceviamo a questo punto l'investimento finanziario dà un flusso di reddito insignificante se noi pensiamo di dire non so voglio investire in titoli di stato e avere mille euro al mese che comunque un piccolo stipendio significherebbe se anche un titolo di stato italiano con tutti le incognite eccetera dovesse rendere un un per cento all'anno paghiamo circa il 26 per cento di tasse di imposta diciamo sostitutiva fissa quindi per avere mille euro dovremmo riceverne solo di cedole circa mille trecento adesso vado così più o meno in generale grossolanamente mille trecento di cui per un titolo di stato dovesse dare anche non lo so l'un per cento significherebbe circa 15 mila euro all'anno quindi immaginate che servirebbero circa un milione e mezzo di euro di patrimonio investito in titoli di stato per poterci dare ecco 15 mila euro rende l'idea diciamo di quanto cioè per avere quindi un piccolo stipendio netto di mille euro al mese noi dovremmo averne investiti un milione e mezzo di euro dovremmo essere molto ricchi questo è un esempio banale ma dà l'idea di quanto è importante non solo investire nei mercati soprattutto titoli di stato obbligazioni ma avere più fonti di reddito riprendendo anche il video che avevo fatto sul libro di allen molteplici fonti di reddito anche piccole ma che si sommano appunto perché da sole non hanno tante volte adeguata consistenza per consentirci di avere un reddito adeguato ecco in questa ottica delle tante piccole fonti di reddito come faceva l'esempio allen nel libro tanti piccoli ruscelli d'acqua che però unendosi 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 alla fine formano un grande fiume e la stessa cosa dovrebbe valere per il nostro reddito complessivo composto magari da uno stipendio come dicevo di attività libero professionale e anche flussi di cassa derivanti da altre cose avevamo fatto l'esempio canoni di locazione se investiamo degli immobili dividendi cedole investite nel mercato finanziario ma oltre a questi vorrei oggi parlarvi di cosiddetti side hustle che sono un po diciamo i lavoretti se vogliamo cioè delle fonti di reddito ulteriori che noi possiamo ottenere oltre alla nostra fonte di reddito principale che immaginiamo sia il lavoro per esempio dei piccoli lavoretti che magari richiedono o poco capitale investito oppure un po' del nostro tempo e delle nostre competenze anche senza capitale addirittura e che nel corso del tempo possono darci un flusso di reddito magari apparentemente piccolo ma che sommato a tutti gli altri diventa importante non solo questi lavoretti io li chiamo così ma ovviamente è un senso generico e banale insomma ecco ma immaginiamo che questi side hustle questi lavoretti li possiamo fare nel nostro tempo libero e soprattutto facendo ciò che ci piace secondo me questa è la prima regola cioè prima di capire faccio questo faccio quell'altro in base a magari perché l'amico ci ha detto guarda ho guadagnato ad esempio questo mese 500 euro facendo ripetizioni non so di matematica per esempio oppure facendo delle traduzioni su un sito web o non lo so qualunque video editing eccetera dobbiamo capire noi cosa sappiamo fare cosa vogliamo fare che impegni abbiamo nelle nostre giornate nel nostro tempo e quindi prima di poter decidere cosa fare dobbiamo fare un check up un'analisi personale delle nostre capacità delle nostre esigenze di tempo con realismo anche della voglia e delle energie che abbiamo se magari facciamo tutto il giorno in ufficio un lavoro intellettuale ad esempio è difficile che la sera dopo cena tutte le sere si riesca magari a fare un altro lavoro intellettuale per esempio non so delle traduzioni ma ad esempio quando siamo stati otto ore in ufficio viceversa magari possiamo fare dei lavoretti manuali magari che ci piacciono ci distraggono ecco quindi prima regola fare ciò che ci piace seconda regola fare un check up di quanto tempo abbiamo se è flessibile non è flessibile il tempo che abbiamo che tipo di attività vogliamo fare siamo in grado di fare le competenze che abbiamo eccetera in base a questo grande check up a quel punto possiamo iniziare a cercare un eventuale lavoretto fonte di reddito diciamo che su internet ci sono migliaia credo di video che parlano di siti dove trovarli quali lavoretti fare come farli facendo anche magari delle elencazioni ad esempio i 20 siti migliori per fare lavori a commissione ad esempio oppure i 5 migliori lavoretti del 2021 e così via ma prima di cercare quello dovete capire voi cosa sapete e volete fare quindi questa è la prima regola può sembrare banale ma tante persone che conosco hanno sbagliato lì per esempio lo stesso faccio un esempio personale il canale youtube che io faccio è stata una scelta consigliata da mia moglie diciamo che mi sta piacendo sinceramente ma nata sempre le esigenze mie personali nel senso che magari io ho la possibilità di girare questi video in piena notte sia perché come caratteristiche personali mi addormento tardi non mi fa fatica a rimanere sveglio fino a tardi anche se a volte non mi fa bene però comunque si presta bene alle mie esigenze la notte c'è silenzio sono tranquillo i bimbi dormono mi posso concentrare cose che di giorno tra il lavoro e tutti gli impegni non riuscirei a fare se dovessi fare per esempio delle dirette non so su twitch faccio l'esempio per me sarebbe impossibile perché se ho un appuntamento con chi mi segue alle 9 alle nuove di sede la può succedere di tutto ecco insomma quindi mi serve la flessibilità ad esempio e così è un esempio banale ma parlo per esempio di argomenti che a me piacciono di economia di investimenti e che quindi riesco diciamo a sempre studiare fare degli aggiornamenti cercare di approfondire anche argomenti di attualità perché essenzialmente è qualcosa che mi piace quindi comunque lo faccio per me poi cerco di pensare ai video a come renderli fruibili comprensibili ma di base se fosse un argomento che a me non dovesse interessare non troverei la voglia ogni giorno di andare a leggere informarmi ad esempio su argomenti che non conosco e non mi interessano quello è fondamentale perché comunque immagino che dai video per quanto io non sono bravo a farli comunque penso traspare il mio interesse e la mia passione per quello di cui parlo che all'opposto non trasparirebbe se non so parlassi di calcio per esempio che non è che mi interessa particolarmente e non conosco per esempio quindi questo era il tema principale dovete prima fare questa analisi prima di tutto il resto a quel punto quando l'avete fatta avete valutato dicendo io magari vorrei un lavoro che non mi impegna con orari precisi che ha scadenze flessibili che magari posso fare da casa perché devo rimanere a casa e ho delle difficoltà allora in quel caso cominciamo in base a le caratteristiche che noi abbiamo individuato a cercare dei lavoretti io li ho divisi ma è una ricostruzione ovviamente mia essenzialmente in tre categorie i lavori diciamo a cottimo adesso un termine un po desueto ma insomma che possiamo fare da casa i lavori a cottimo che possiamo fare fisicamente in un luogo insomma i lavoretti ecco diciamo che possiamo fare e come terza categoria le eventuali fonti di reddito cosiddette passive ma non nel senso di investimenti che danno riflussi di cassa ma con il nostro tempo cioè noi con il nostro tempo con le nostre energie a capitale zero dobbiamo costruire tutta una serie di magari contenuti per esempio l'esempio tipico è un canale youtube ma possiamo anche costruire non lo so comporre delle canzoni per chi è capace scrivere degli articoli pubblicarli sulle siti ad esempio c'è medium che è uno di questi scrivere dei libri degli ebook oggi veramente con internet la tecnologia consente di fare cose che fino a 5 10 anni fa erano impossibili basti pensare a pubblicare un libro in passato serviva un editore eccetera solo da pochi anni c'è la possibilità di pubblicare per esempio dei nostri book che poi magari possiamo mettere gratuitamente per farci conoscere ci sono dei siti che se ne occupano proprio di queste cose anche libri di narrativa romanzi oppure manuali tecnici di tutto c'è e questi siti possiamo diciamo vendere i nostri contenuti oppure magari pubblicarli gratuitamente per farci conoscere ad esempio oppure ricevere delle donazioni dire metto gratuitamente a disposizione il mio lavoro e poi ricevo delle donazioni chi vuole farmene questo vale per tutto possiamo anche creare delle foto e venderle mettendoci dei diritti d'autore e dire questa immagine chi la vuole utilizzare ad esempio per un sito web mi paga una piccola royalty e così via c'è di tutto dei video è un'elencazione infinita insomma gli nft per esempio adesso viene in mente le nuove tecnologie e così via quindi questa è la creazione di contenuti che ha essenzialmente un vantaggio fondamentale che richiede molto tempo per la sua costruzione per creare i contenuti e il risultato è imprevedibile nel senso che magari noi possiamo impegnarci tanto fare degli ottimi prodotti video foto articoli libri ma non è detto che abbiano successo quindi il nostro lavoro può non è proporzionale direttamente al guadagno non ci sono garanzie di guadagno ma ha il vantaggio da un lato che spesso richiede lavoro tempo energia ma pochi soldi soprattutto oggi possiamo per esempio pubblicare un ebook su amazon su tantissimi altri siti gratuitamente non abbiamo bisogno della casa editrice che ce lo pubbliche magari dobbiamo noi pagarli per esempio e quindi questo è un grande vantaggio bassi costi assenza diciamo assenza di capitale richiede tutto sommato una quantità di tempo variabile in base alle nostre esigenze è flessibile perché possiamo scrivere contenuti articoli scattare foto eccetera essenzialmente quando vogliamo perché non si tratta di solito di lavori con scadenze fisse siamo noi che decidiamo come quando creare i nostri contenuti e poi li mettiamo a disposizione di chi vuole gratuitamente o a pagamento e il vantaggio principale di questa categoria è che può dare anche delle rendite passive indipendenti dal nostro lavoro se da un lato possiamo magari lavorare tanto e non guadagnare nulla all'opposto fatto quel lavoro quel tempo quell'impegno magari i guadagni continuano nel tempo e sono indipendenti a quel punto dal nostro tempo ulteriore se per esempio pubblichiamo ecco un video su youtube e a un certo punto riceve la pubblicità se il video resta lì continua eventualmente a generare piccoli introiti da pubblicità anche se l'autore non sta ovviamente a fare nulla in teoria questa è la logica poi ovviamente non esiste la rendita passiva secondo me totalmente perché comunque se sia che decidiamo di essere fotografi autori di video e quello che sia scrittori di articoli eccetera è importante mantenere sempre viva l'attenzione creare nuovi contenuti aggiornarli quindi secondo me non è totalmente una rendita passiva ma comunque è una fonte importante sempre più persone ci si stanno buttando a volte così un po per sentito dire per provarci diciamo che è difficile trovare tante volte l'impegno e la costanza e per questo che io ribadivo all'inizio del video che dobbiamo fare qualcosa che ci piace altrimenti dopo un po si rischia così di mollare io ho visto vari canali anche youtube che seguivo con video di ottima qualità secondo me che davano reali contenuti e troppo spesso purtroppo dopo un po vedevo che non pubblicavano più gli autori e mi dispiaceva perché comunque facevano dei buoni video ma probabilmente dopo un po mancano le idee dopo un po non si trova l'ispirazione magari la vita cambia e quindi abbiamo magari un lavoro che ci assorbe si abbandona la creazione di contenuti io ho visto dei canali ho fatto piacere uno di questi per esempio di un ragazzo che faceva dei bei video poi per anni abbandonato probabilmente perché si dedicava più al suo lavoro alla sua carriera e recentemente dopo tutta la pandemia è tutto credo per problemi lavorativi che a quel punto diciamo il lavoro era crollato ha ricominciato a creare contenuti e nonostante gli anni molti utenti l'hanno riabbracciato gli è piaciuto insomma è stata una bella cosa ecco per dire che comunque anche flessibile quindi questa è la prima categoria quella della creazione di contenuti che possono dare le piccole fonti di reddito ma anche crescenti nel tempo seconda categoria come dicevo è quella dei lavoretti online io dico a cottimo nel senso comunque lavori proporzionati al nostro tempo al nostro impegno al nostro lavoro ci sono tantissimi siti anche settoriali c'è per esempio per certi ambiti marketing legale ingegneristico tecnologico eccetera dove vi è una domanda e offerta non tanto di lavoro ma diciamo di incarichi da svolgere per un certo prezzo per esempio uno può dire chiedo di fare un sito internet con queste caratteristiche offro massimo mille euro e chi è interessato si propone o viceversa magari si può dire magari non so chiedo chi mi può fare un documento una traduzione anche un parere legale quello che sia offrendo questi soldi o magari si chiede un lavoro dicendo mi fai questo mi fai quest'altro oppure io mi offro di fare questa cosa per tot soldi per esempio mi offro di fare ritratti a pastello dai 300 ai mille euro in base a tutta una serie di caratteristiche uno magari mette anche a disposizione dei lavori chi è interessato lo contatta ci sono tantissimi siti non li sto a elencare anche perché farei così un elenco di principali ma ripeto basta che cercate su google ne trovate tantissimi anche perché dipendono dal settore dove operate ripeto quelli artistici eccetera sono alcuni ingegneristici sono altri e così via insomma molti sono tecnologici questi siti danno enormi opportunità di lavoro addirittura da tutto il mondo non solo da tutta italia tante volte ripeto un sito web per esempio oppure un video un editing di un video aggiustamento della musica di una canzone un parere magari tecnico quello che sia può essere fatto in tutto il mondo sono universali queste cose nulla vieta che non so un islandese può fare un sito web per un australiano per esempio e quindi internet aperto questo universo di possibilità di questi lavoretti che richiedono tempo ma magari soprattutto se siamo costretti a stare a casa per tutta una serie di caratteristiche nostre oppure magari perché vogliamo una flessibilità nel nostro lavoro cioè di dire quando ho un attimo di tempo di voglia lo faccio questi sono fondamentali questi siti ovviamente non è che si sopravvive secondo me con questi lavoretti perché comunque dobbiamo trovare sempre incarichi nuovi anche con il massimo tempo e la volontà non è detto che li troviamo ogni incarico spesso è diverso possiamo noi offrirci di farli ma a quel punto non sappiamo se verremo contattati quindi si prestano bene secondo me proprio questi side hustle cioè magari così integrare di soldi un mese 100 euro un mese magari 500 e così via dipende da cosa vogliamo fare ma con tutta una serie di vantaggi flessibilità anche qui non servono soldi investimenti ma basta tutto sommato andare su quei siti impegnarci imparare eccetera e ci sono ripeto siti di ogni genere adesso così vado a memoria tutoraggi dove possiamo insegnare imparare insomma qualunque caratteristica di qualunque persona è sempre secondo me c'è sempre richiesta magari siamo non so di pensionati uno dice ormai che so fare niente magari ci sono dei siti dove invece chiedono di fare dei corsi per esempio su uno sport su certi argomenti eccetera o magari anche solo di parlare di confrontarsi ripeto le possibilità sono infinite rivolgendoci a dei siti che già esistono quindi facilmente incrociando domande offerta o magari anche perché no creare noi degli annunci dei siti dicendo io offro questo per esempio io sono bravissimo a fare ritratti a pastello faccio un mio sito web e se volete fare un regalo originale rivolgetevi a me c'è di tutto ecco adesso non faccio esempi a infinito terza categoria riguarda invece sempre i lavori a cottimo diciamo i lavoretti che noi possiamo fare però fisicamente non via web ma sempre magari via web possiamo trovare degli annunci eccetera ma poi li facciamo concretamente in un luogo ci spostiamo a tu per tu con eventuali persone penso ad esempio alle ripetizioni penso a piccoli lavori di giardinaggio per esempio dire io so creare un orto se volete vi crea un orto ve lo manutenziono magari mezz'ora al giorno prendendo tot soldi o magari prendendo una parte dei frutti ad esempio bisogna ecco usare secondo me la fantasia soprattutto in questo mondo in continua evoluzione crisi dove proprio cambia la concezione nel bene nel male purtroppo di del lavoro sempre meno uno stipendio consente di sopravvivere soprattutto una famiglia a meno che sia altissimi livelli ma è sempre più difficile c'è sempre più concorrenza tra lavoratori sempre più anche precarietà del lavoro anche ad alti livelli e quindi secondo me è importante anche crearsi le piccole fonti di reddito anche diverse tra un membro della famiglia e l'altra proprio per diversificare il rischio questi lavoretti possono essere ripeto di qualunque genere a tu per tu e secondo me proprio nel periodo della pandemia di tutta questa incertezza alcuni di essi se magari alcuni sono calati per esempio immagino quelli legati non so la ristorazione ai servizi eccetera altri secondo me sono aumentati per esempio c'è molta richiesta soprattutto con tutta una serie di misure di limiti quasi talvolta di segregazione secondo me per esempio dei bambini dei ragazzi sempre più persone vedo cercano delle babysitter chi può magari a casa addirittura una figura che sembrava un po dei romanzi dell'ottocento il precettore c'è qualcuno che magari fa scuola ai figli non solo ripetizioni ma proprio scuola vedevo che tanti cercano proprio insegnanti e magari alcune famiglie decidono di far fare scuola ai figli è consentito con certi limiti e regole dalla legge quindi magari il cosiddetto homeschooling e servono appunto dei insegnanti in questo privati quindi questo è un esempio adesso che mi è venuto in mente così ce ne sono ripeto tantissimi la babysitter il lavoro di giardinaggio lavori anche di riparazioni perché no anche piccole riparazioni magari della casa pagare un idraulico magari un'impresa specializzata magari può costare tanto magari semplicemente così da stringere il rubinetto e magari c'è chi lo sa fare io vedevo per esempio a milano spesso al parco questi volantini di persone che si offrono a dire faccio traslochi faccio piccoli lavoretti di tinteggiatura eccetera che ho sempre ammirato e che sono effettivamente molto utili perché appunto tante volte servono dei piccoli interventi che non giustificano un'impresa specializzata un professionista che comunque un minimo di soldi li vuole ma magari anche non so 10 20 euro a qualcuno che è contento di farlo per esempio ovviamente poi ci sono tutta una serie di siti anche per questo applicazioni che incrociano domanda e offerta in modo molto semplice che garantiscono anche il discorso della legalità del pagamento delle tasse della trasparenza dare delle recensioni al professionista per cui magari uno si rivolge a qualcuno che ha un buon punteggio sanno che è serio che è capace che è onesto e così via anche qui la tecnologia anche nei lavori faccia a faccia sta rivoluzionando tutto anche qui non faccio un elenco perché ripeto le app gli siti sono tantissimi e anche perché appunto tante persone ancora utilizzano mezzi del passato per esempio mettono annunci su quotidiani locali oppure dei volantini dove si può strappare il foglio per esempio al parco oppure li lasciano magari delle baccheche pubbliche quindi anche lì e anche quello è importante secondo me possono sembrare così banalità o addirittura tante volte c'è la concezione sbagliata di dire sono lavori da poveraccio non è così tante volte proprio un piacere una soddisfazione io conosco per esempio persone anche benestanti che per esempio sì per un piccolo guadagno ma più che altro per hobby fanno per esempio ripetizioni oppure aiutano con le tesi di laurea oppure fanno le guide turistiche questo è un altro lavoro che ben si presta fanno fotografi fanno magari riprese video in un così per eventi particolari magari perché gli piacciono i matrimoni si occupano magari così dell'organizzazione le composizioni floreali di cose che magari non è che lo fanno per guadagnare ma perché gli piace anche ci sono anche lì universi di cose che possiamo fare tutto deve nascere da noi stessi ecco perché dico che è importante perché sennò ci perdiamo tra queste infinite cose andiamo di qua di là a zonzo e alla fine rischiamo di non fare nulla si stanno ricreando anche dei lavori del passato sempre forse in quest'ottica così di profondo cambiamento in positivo spesso più in negativo purtroppo della società legata a tutto quello che sta succedendo per esempio sempre più si sta tornando alle feste a casa soprattutto adesso con queste ultime restrizioni di andare ristoranti locali io vedo sempre più persone organizzano le feste a casa e magari si rivolgono a delle persone per cucinare magari le cosiddette non lo so casalinghe che magari hanno anche una certa età e sanno magari cucinare molto bene si fanno anche pagare a volte anche abbastanza soldi per dire guarda fai tu le patate arrosto non so il roast beef le verdure e si fa un rinfresco di dolci eccetera e magari una cena in piedi una cena magari a casa di una persona e anche questi sono lavori che magari esistevano 50 60 70 anni fa e che stanno tornando e anche quello magari a una persona che magari una pensionata che non è che dice voglio ricominciare a lavorare ma conosco persone che fanno questi lavoretti e si divertono perché magari gli piace cucinare una soddisfazione allo stesso tempo magari una sera fanno tre quattrocento euro così e magari all'opposto chi fa ricevimento a casa non deve lavorare non si deve stare a impazzire e comunque risparmia rispetto magari a comprare le cose a un ristorante ho fatto un esempio quindi anche lì usiamo la fantasia queste diciamo sono le tre categorie ne ho voluto parlare perché è fondamentale soprattutto in questo periodo di tassi di interesse bassi avere la possibilità di aumentare secondo me le nostre entrate e soprattutto diversificarle perché magari perdiamo il nostro lavoro comunque se ci siamo creati varie fonti di reddito riusciamo a comunque a vivere ecco ad andare avanti anche a vivere l'eventuale lavoro o la nostra attività professionale un'impresa con un pochino più di tranquillità non solo perché abbiamo dei risparmi ma anche perché le nostre entrate non sono esclusivamente provenienti da una sola fonte e questo è ecco l'aspetto poi ovviamente ci sono mille altri rivoli ho fatto tre categorie ma ci sono tante altre fonti di entrata per esempio uno di voi che commenta spesso ha un canale apposito che spiega come ottenere criptovalute gratuitamente da alcuni siti ad esempio facendo degli acquisti online ricevendole come premi oppure visualizzando le pubblicità vedendo dei video facendo click sul sito magari tipo delle mini lotterie tutto gratuito che diciamo sono attività che richiedono molto tempo obiettivamente ma magari se noi dobbiamo stare davanti a un computer perché magari dobbiamo fare altre cose per forza se abbiamo tempo abbiamo voglia da piccole attività magari possiamo ottenere tutta una serie di criptovalute che magari oggi valgono un centesimo ma nulla toglie che magari potrebbero valere un euro tra un anno per esempio molte di queste fonti di criptovalute sono ottenibili anche magari facendo attività normali ci sono per esempio dei siti che dove visualizziamo i video che ci interessano e ci pagano queste criptovalute essenzialmente noi faremo la stessa cosa ascoltiamo musica leggiamo articoli commentiamo di social e così via quindi quella è anche una mini categoria che secondo me vale la pena di ricordare perché comunque tutto fa come si dice poi c'è un'altra categoria a parte che non ho trattato in questo video ma che è quella delle società cioè creare una società a livello individuale cioè diciamo una ditta individuale oppure appunto una società tra più persone esistono anche per esempio le srl unipersonali ma anche se fa ridere perché non è una reale società comunque diciamo è una società unipersonale oppure magari con più persone per svolgere magari certe attività ad esempio persone che hanno molte case molte immobili magari potrebbero valutare la creazione di una società immobiliare bisogna essere secondo me cauti perché innanzitutto dobbiamo capire quale forma societaria utilizzare per quello ci serve secondo me un commercialista ma andare così da soli può essere rischioso e allo stesso tempo comunque le società hanno tendenzialmente dei costi delle bieghe burocratiche dei rischi tutta una serie di cose che secondo me valgono la pena solo per attività di una certa consistenza non è come in passato che così si creavano facilmente le società stavano lì erano così quasi andavano avanti oggi purtroppo i costi sono pesantissimi quindi ha senso ecco perché li ho citate ma non lo metto in questo video come fonte di reddito ulteriore perché comunque non sono dei lavoretti o dei side hustle come si dice ma comunque sono attività così di diciamo che hanno senso con un'attività importante ecco qualunque essa sia anche piccolina ma comunque costante dopodiché poi ci sono anche altri modi ovviamente per guadagnare ho parlato di ripeto di lavoretti ma per esempio tante persone comprano e vendono oggetti magari comprano un oggetto a poco lo rivendono più riparano degli oggetti addirittura c'è chi magari va nei cantieri nelle discariche ovviamente con la devuta autorizzazione eccetera magari recupera materiali come rame acciaio tutta una serie ripeto c'è la fantasia più ampia anche qui non è ovviamente questi sono gli unici modi per fare soldi ne ho citati alcuni che secondo me sono interessanti poi fatemi sapere cosa ne pensate come sempre vi invito a iscrivervi al canale e condividere i video con chi pensate possa essere interessato e soprattutto visto che questo video non è una categoria chiusa ma tutt'altro fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se avete altre idee cosa pensate di quello paretto altri suggerimenti eccetera io vi ringrazio e vi saluto ciao a tutti